ed eccoci qua ciao a tutti Mizzica oggi siete già quattro siete già tantissimi io sono solo funziona così è sempre il bello della diretta nei preparativi insomma mi sono perso un po' in chiacchiere e mi è scappato Paolo che però ha detto che rientra due minuti e gli ho rubato io i tempi di preparazione quindi adesso a me tocca il compito imbarazzante perché sapete che insomma sono una persona abbastanza riservata abbastanza timida e mi vergogno di intrattenervi finché Paolo insomma di nuovo non ci bussa alla porta nel frattempo vi dico che io non so adesso come come mi vedete e se mi sentite bene anzi adesso metto gli auricolari perché poi così non ho problemi di interferenza con Paolo e avevo preparato anche il set di luci come tutte quante le altre volte fatemi un cenno per favore se mi sentite e solo che come al solito i miei accrocchi nel momento meno opportuno mi abbandonano e mi hanno abbandonato ovviamente anche anche gli accrocchi per le luci quindi accontentiamoci di questo per la felicità di Mario che mi ha rimproverato che all'ultimo video sembrava un po' emaciato un po' malato e adesso sembro più abbronzato del solito ma effetto luce al tungsteno e già vediamo salutiamo qualcuno c'è Samuele ciao carissimo buonasera poi c'è vabbè c'ho il mio stalker preferito a cui voglio un mondo di bene che Francesco dice che siamo sempre bellissimo ovviamente lui è ironico e poi ci abbiamo Emanuele Andreozzi foto buonasera e benvenuto per la prima volta sui nostri canali di F4 mi chiami fa figo dire sui nostri canali proprio effetto tv grazie spero che insomma interverrai dopo nella live eccolo interrompo un attimo i saluti li riprendiamo dopo perché ecco a voi Paolo Paolo ciao buonasera ti tocca adesso presentarti tu al volo perché ho già mi hai fatto spendere qualche parola imbarazzante aspettandoti ma mi sono preso la responsabilità per averti fatto fare due minuti di ritardo quindi sei perdonato grazie grazie e niente io sono Paolo e faccio lo street photographer e anche su fatto anche altri tipi di fotografie ma faccio la street solo ed esclusivamente street da 13 anni semplice perfetto continuiamo allora con i saluti ci abbiamo Emanuele Antonio carissimo Emanuele abbiamo parlato al volo dieci secondi proprio di te caro buonasera ti vediamo e sentiamo benissimo perfetto poi abbiamo Nicoletta buonasera 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 Margherita ti saluta Paolo ti saluta Francesco Francesco e anche Lucia buonasera a te quindi diciamo già ci siamo un pochino allora allora io ho avuto l'opportunità insomma di 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 chiacchierare con Paolo cinque minuti prima che entrassimo in diretta ma Paolo conferma che questa è la piena verità mi sono rifiutato di fare con lui eh conoscenza perché non ci conosciamo personalmente la prima volta in realtà che ci intervistiamo se non tramite qualche commento eh su Instagram reciproco ma non volevo in realtà rompere quella che deve essere quello che è il dettomotive di tutte quante le nostre chiacchierate il nostro ehm street talk di f4 e cioè l'assoluta spontaneità e le chiacchiere eh che possiamo fare al al bar quindi ci conosceremo tutti quanti insieme per la prima volta stasera e spero che questa cosa insomma Paolo non lo metterà in imbarazzo perché ovviamente non sa che cosa eh gli aspetta stasera e voglio rompere subito il ghiaccio con la mia domanda di rito l'unica domanda che è sempre preparata ma che mi piace tantissimo un po' per rendere tutto un po' più piccante e cioè mi piacerebbe che Paolo si presentasse definendosi con tre aggettivi che bello tre aggettivi sono fondamentalmente sono una persona, sono iracondo sono un tipo dell'arrabbiatura facile però nello stesso tempo sono una persona molto buona di cuore e sono timido molto timido questa infatti è una grossa prova per me questa diretta allora ti dico che sulla timidezza insomma facciamo scopa come si dice dalle mie parti in Calabria perché sono estremamente timido anch'io quando lo dico non ci piace nessuno però vi assicuro che è la verità e iracondo non lo so sì probabilmente sì ma più che iracondo io sono meteopatico sono c'è il ciclo come le donne con la differenza che rispetto alle donne io ce l'ho 28 giorni al mese quindi vi lascio immaginare quanto io sappia essere simpatico nella quotidianità e sulla bontà sì sono un buon coglione anch'io Paolo quindi non penso che non riusciremo ad andare d'accordo io e te da stasera in poi quindi grazie per questa presentazione invito tutti quanti gli FNAUTI che ci ascoltano e che ci ascolteranno anche dopo nella visione in streaming poi del video di prepararvela questa domanda così insomma non sarà più una domanda a sorpresa e tanto poi la cambio allora non so io a differenza delle altre volte è iniziata e ricominciata la stagione di queste chiacchierate sulla fotografia di strada tra me e gli FNAUTI e poi tra l'altro nel corso delle settimane avremo anche qualche ospite importante che insomma comincia apprezza un po' quello che facciamo almeno i sacrifici che facciamo e quindi la voglio iniziare in maniera un pochettino diversa questa stagione per quanto voglio mantenere questa grande spontaneità questa grande leggerezza in queste chiacchierate perché poi lo sapete tutti io sono un po' logorroico sono un pochettino mi allungo e quindi non riuscirò mai a stare nei tempi che mi prefiggo tutte le volte di un'ora però quanto meno mi sto preparando un po' meglio per cercare di dettare i tempi ecco non andare troppo lunghi e diventare fastidiosi detto ciò io mi sono preparato delle domande come faccio al solito le domande per Paolo sono domande un pochettino molto particolari e poi man mano che le farò vi spiegherò anche il perché a lui ho destinato certe domande ovviamente mi aspetto che tutti quanti voi facciate delle domande a Paolo perché insomma all'interno della community di F4 una delle cose più belle che volevo e che sto riuscendo in realtà a realizzare e che sta diventando una famiglia dove più o meno tutti conoscono tutti e anche se soltanto ancora dietro la macchina fotografica e dietro gli scatti però insomma ormai vi conoscete tutti quanti sapete tutti quanti conoscete tutti quanti il valore di Paolo come street photographer quindi vi lascio la libertà di intervenire quando volete con le domande che volete fargli buonasera caro Orlando Osvaldo Osvaldo se non sbaglio si chiama Osvaldo lui tra l'altro Osvaldo è una persona che ho conosciuto perdonatemi un attimo questa digressione ma glielo devo perché oltre al valore insomma di di Osvaldo come anche lui street photographer grande conoscitore insomma della street e studioso della street mi ha dato una mano immensa per il numero di agosto della fanzine street wave perché lui l'autore della di un articolo importantissimo di una pubblica che per me è molto importante che è quella sulla tecnica fotografica e sui grandi autori del passato invito tutti quanti per chi non l'avesse ancora fatto ovviamente a comprare la nostra splendida fanzine fatemi pantare un po' che è disponibile niente poco di meno che su Amazon per leggere in realtà la anche l'articolo di Orlando ecco che scusami Orlando non volevo essere mi sono confuso con i nomi ecco vabbè scusate insomma capita ciao anche a Stefano De Carolis ok andiamo a noi prima di farti domande che mi sono preparato sono domande prevalentemente tecniche oltre quelle proprio fastidiose no sciogliamoci un po' perché Paolo ti vedo ti vedo ancora oggettivamente timido e questa cosa la devi sciogliere devi essere tu che mi devi dare il freno perché sennò io parlerei a ruota libera prima domanda secca a bruciapelo perché sei entrato in questa community di F4 ma poi è entrato in realtà in maniera molto molto attiva sempre presente sempre disponibile con con tutti anche stasera voglio dire la tua presenza qui nella riprova perché F4 tu che non sei propriamente un novizio della street lo dicevi prima sono 13 anni perché F4 perché mi è piaciuto ciao Carmen mi piace l'approccio che ha il gruppo di F4 di dare spazio a persone che magari sono molto brave che ce ne sono veramente tanti molto bravi che però non hanno un seguito giusto per quelle che sono le loro capacità e questo su F4 è una costante cioè nel senso si vede che si dà molto risalto a questi ragazzi poi tanti non li conoscono dico ragazzi ma magari ci sono anche dei signori che sono magari tecnicamente molto molto bravi che fanno delle foto bellissime io ne seguo parecchi che però non hanno un risalto che meriterebbero perché purtroppo questo è diventato un mondo un po' un po' particolare è un po' infito il mondo della fotografia se non ti stai muovere non emergi e invece è più 4 dà la possibilità a queste persone di farci notare Paolo io ecco come fondatore insomma di F4 mi dice una cosa del genere sono diventato rosso perché mi sono emozionato questa cosa mi emoziona perché in realtà è stato il motivo per cui ho fondato F4 poi io non mi stancherò mai di ringraziare Nicoletta e Nicola perché questo mio sogno davanti prima in solitudine in moto poi una chiacchiera al telefono con Nicoletta e poi davanti una bella bottiglia di vino bianco abbiamo suggellato questa mia idea folle e mi hanno accompagnato fino ad oggi e ti dico che sono ancora loro il motivo principale per cui non ho intenzione di smettere ma il motivo era proprio questo in un mondo quello della fotografia che purtroppo è un mondo bacato perché si insegna più ad emergere che non a fotografare si insegna più il modo per farsi vedere che non a esprimere quello che veramente uno ha dentro o quello che vorrebbe o il suo progetto la sua idea del mondo e quindi sentirmi dire da te che questa cosa emerge del motivo per cui tu così come tanti altri insomma stanno entrando giorno dopo giorno nella nostra community per me non lo nascondo sarei veramente finto se non dicessi la verità e cioè che per me è un motivo di orgoglio immenso per me f4 è veramente forse la cosa più bella che abbia mai pensato nella mia vita e vederla realizzata e crescere con persone splendide ogni giorno è veramente per me un motivo di orgoglio immenso e dico una cosa in più siamo anche gli unici che fanno questo che danno spazio a tutti e a tutti quanti danno lo stesso eco e questa è un'altra cosa insomma che io volevo fin dall'inizio e che fortunatamente insomma stiamo continuando a mantenere e continueremo a mantenere mi spiepisce comunque questa questa cosa io dall'esterno è una cosa che ho percepito subito come ho visto la pagina la prima volta è una cosa che è immersa subito ed è per questo che mi è piaciuto poi entrare un po' a seguire a vedere le persone che venivano sempre pubblicizzate magari nelle storie perché si vedono veramente degli ottimi scatti poi a vedere i profili non hanno seguito è una cosa brutta ma guarda e vedo gente con fotocamere da 10.000 euro che che non che non sa fotografare che però hanno hanno tanto successo è una cosa brutta ma guarda questo è un po' il problema ne discutevo proprio insomma con i ragazzi anche lì ragazzi li chiamo tutti quanti ragazzi perché sono un ragazzo anch'io diciamo che la buona l'abbiamo passata tutti e no non tutti che non si offendano i veri giovani del gruppo di F4 però gli dicevo proprio questo la fotografia in realtà è un ambiente bacato perché principalmente si è voluta ghettizzare da sola perché è un mondo fatto di grandi invidie di grandi gelosie per cui ognuno si mantiene dentro i segreti che poi i segreti non sono perché sono i segreti di Pulcinella se non i misteri di Fatima quindi ognuno dice la sua ma in realtà questo non fa altro che rinchiudere la fotografia ancora di più la fotografia di strada in una sorta di ghetto e questa cosa è così è il motivo per cui ci sono quelli che hanno tanto seguito che poi in realtà anche lì ci sarebbe da parlare e aprire un discorso a parte che sono il numero dei follower la prima cosa che insomma viene balza gli occhi che non corrisponde in realtà al vero valore del fotografo questo è dato da due cose principalmente la prima è quella che abbiamo detto in apertura e cioè che oggi si tende più a insegnare come proporsi che non a fotografare e a esprimersi e e l'altro problema è che oggi Instagram per colpa nostra che siamo fruitori e utilizzatori di Instagram ha fatto sì ha cambiato tutti quanti gli algoritmi per cui chi oggi è poco seguito resterà poco seguito perché sono cambiati proprio gli algoritmi ma io sono di quelli sono stato assente per cinque anni quindi io per cinque anni non sono stato su Instagram ho cancellato il mio vecchio account e quando sono ripartito sono voluto ripartire con un nuovo account non ho voluto riprendere in mano volevo un percorso parallelo al mio inizio al mio ricominciare volevo ricominciare anche col profilo e purtroppo questa cosa l'ho notata è brutta però purtroppo questo non come utenti dobbiamo imparare l'unica cosa è che dobbiamo imparare a farci la domanda giusta perché noi le prime domande che ci facciamo quando vediamo una fotografia è sempre una domanda sulla fotografia le prime domande che ti dovresti fare invece sono sul fotografo e questo soprattutto è una cosa che unisce la street la paesaggistica perché le prime domande che uno fa quando vede una foto se le dovrebbe fare sul fotografo perché ha fatto questa foto che cosa voleva comunicare sono le prime domande che tu ti devi fare che ti danno l'impronta su chi è il fotografo dopo analizzi la fotografia le prime domande te le devi fare sul fotografo invece adesso siamo abituati a vedere nel complesso la bellezza della fotografia e nessuno si domanda perché chi l'ha scattata la fotografia siamo diventati impersonali è un po' ti ripeto il cane che si morda la coda siamo diventati impersonali per il semplice motivo che a me guarda io questa cosa sto tardando la dico sempre dall'inizio con Nicoletta è una battaglia tutte le settimane perché quando propongo insomma a lei agli intimi a Nicola quelli che gli argomenti che vorrei trattare insomma su questo canale io c'ho sempre questo video su Instagram no? sulla natura di Instagram e alla fine un po' mi lasciano pensare no? sto temporeggiando perché inevitabilmente quando lo farò andrò a rompere i coglioni a qualcuno come purtroppo sembra che lo faccia spontaneamente ma in realtà è la verità il problema è sempre quello e noi partiamo da un presupposto che ci oggi i social ce l'hanno insegnato ma ci hanno insegnato questi grandi professoroni di sto cazzo che vogliono insegnarci qualcosa che in realtà tutto è meno che il linguaggio artistico tutti quanti si riempiono la bocca dell'arte nella fotografia la fotografia è un'arte la street fotografia è un'arte però poi in realtà nessuno che ha veramente questa intenzione questa voglia di comunicare e di far uscire fuori la capacità di esprimersi artisticamente che comunque abbiamo tutti chi più o chi meno ma la abbiamo tutti ma soltanto educata fatta emergere questa cosa si dimenticano di insegnarla ma per un motivo fondamentale perché tutti quanti questi i più grandi e poi ti farò degli esempi concreti che fanno se devono dire a Paolo Paolo ma che fotografia che hai fatto è stupenda mi comunica mi ha emozionato mi ha fatto venire la pelle d'oca mi ha fatto ricordare mi ha immaginato io lo dico sempre le fotografie come la musica e così come qualsiasi altra forma artistica ti suscitano delle emozioni che da solo non proveresti però se io ti dicessi una cosa del genere purtroppo oggi i grandi non te la dicono perché temono credono in maniera assolutamente sbagliata che dicendoti una cosa del genere loro quasi perdessero il loro status cioè dire bravo Paolo è come se io mentre te lo dico fossi meno bravo di te no ma cazzarola io ma lo dico sul serio quando mi hanno chiesto in più di un'occasione in più di un'intervista chi sono i miei fotografi di riferimento io non ho mai fatto non ho mai nascosto che il mio più grande fotografo street photographer che io ho nel cuore che per me è sempre una fonte di ispirazione che mi fa riflettere ogni volta che riguardo sempre le sue stesse fotografie è Alex Webb ma io al secondo posto metto tutti quanti i membri di F4 e non lo dico perché sono paraculo ma voglio dire questo è uno dei motivi per cui insomma poi ci saranno delle domande ad hoc che ti faccio io e io metto poi tutti quanti i membri di F4 perché veramente per me quando io facciamo faccio la 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 scorro un po' tutte quante le 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 storie e la ricerca delle fotografie poi da a cui dare eco per me sono tutte quante una fonte di ispirazione io le commenterei tutte quelle cazzarola di fotografie non ci riesco perché il tempo inevitabilmente non ce l'ho così come non ce l'ha nessuno il tempo per poter commentare mille fotografie al giorno però in assoluto è la verità e tutte le volte però invece le fotografie che io le commento sono quelle fotografie che mi fanno fermare ma non per cinque sei secondi che è quello il limite dell'attenzione media ma mi fanno fermare per un minuto per due come l'ultima fotografia che ho commentato a te e quando capita una cosa del genere io lo dico cazzarola alzo le mani touché chapeau cioè io quando vedo queste cose non posso non dire che bello che bravo complimenti e prendere ispirazione e provare veramente a chiedermi chi c'è dietro quello scatto chi c'è dietro quella macchina fotografica questa cosa i grandi non la fanno perché dicendola in maniera pubblica ecco perché io sono contrario ai commenti privati io non faccio commenti privati io in privati in privato parlo di cazzate parlo di pallone ci facciamo qualche battuta anche con membri di F4 insomma con cui poi siamo diventati estremamente amici ma io in privato parlo di cazzate in pubblico i complimenti si fanno in pubblico perché la gente lo deve sapere che quella cazzo di fotografia visto che parliamo di fotografie è arrivata lo deve sapere i grandi questa cosa non la fanno piuttosto i grandi ti tolgono il segui piuttosto i grandi o chi si sente grande te lo toglie il segui e ti blocca perché ha paura probabilmente del confronto è come se dire bravo Paolo è come voler dire io sono una cippa ma non è così non è così Paolo è bravo e io se continuo a seguire Paolo e a fermarmi a pensare alle fotografie di Paolo e farmi e assorbire dalle fotografie di Paolo io probabilmente domani diventerò più bravo di quello che sono oggi io non io non faccio una guerra la mia non è una competizione per essere più bravo di Paolo o di chiunque altro io voglio essere più bravo di Tullio di E cioè il terrore continua di perdere lo status di e di chi è la colpa? ma è nostra e che usiamo i social in maniera sbagliata secondo me i social nascono l'idea l'idea è giusta poi siamo noi che col tempo li trasformiamo e li roviniamo come tutto perché noi siamo male e gli algoritmi non sono una cosa non è gli algoritmi non sono un mostro gli algoritmi si come dire si educano gli algoritmi si educano attraverso le nostre abitudini se noi siamo abituati a seguire chi ha più follower di noi e a vergognarci a seguire chi ne ha meno inevitabilmente gli algoritmi continueranno a lavorare in questo modo quindi ci toglieranno la visibilità a chi è a chi ha meno eco a chi è meno visibile e continueranno a farci vedere sempre i soliti e poi da lì si crea la bolla per cui non cresce più nessuno se non i soliti 4, 5, 10 che si portano dietro un bagaglio è lo stesso motivo per cui tutti quanti quando Peter McKinnon l'anno scorso ha detto Instagram non è più il social dei fotografi mi butto su Vero Vero ha avuto un'impennata della Madonna e tutti quanti questi grandi professori del cazzo si sono buttati su Vero perché si dice che chi entra prima nei social poi capito c'è grande vantaggio no se ne stanno andando tutti quanti davvero perché quella lì che è una piattaforma che ancora oggi vuole crescere sta facendo quello che ha fatto Instagram tanto tempo fa sta dando più o meno importanza a tutti fottendosene dei grandi e loro questa cosa non gli sta bene quindi stanno ritornando su Instagram e stanno rimanendo trombati anche qua ma questa cosa purtroppo è come come la elenchiamo noi se noi continuiamo veramente ma perché Tullio no che ha cento follower segue chi ne ha cinque io non mi vergogno a dirlo non mi vergogno anzi io sono felice ne sono orgoglioso è una cosa è una cosa a cui non ho mai fatto caso sinceramente è vero che io seguo ho sempre seguito poche persone anche con gli altri account che avevo prima dove avevo molto molto più seguito io seguo sempre poche persone ma non perché me la devo dire che io so quello che ha cinquemila follower e ne segue dieci è perché quelle poche persone che seguo io le seguo veramente cioè quando io mi fermo la sera e torno a casa dal lavoro e mi metto sul piano e dedico il mio spazio a Instagram io mi fermo a guardare le foto delle persone che seguo non è che metto il like e vado avanti perché me devo sbrigare che devo vedere mille foto io non devo vedere mille foto non ho tempo per vederle quindi cioè segui dieci mila persone è come non seguirne nessuna perché dieci persone alla media di tre foto a persona tu non le vedi poi la sera quindi che le segui a fare dirmi e che fa ti vedete che tu hai seguito una persona te sei fatto dal follower e poi quella persona sta parcheggiata sta a posto così ma non funziona così se io decido di dedicare tempo a una persona perché mi do il follower e per me quella persona vale vuol dire che poi devo dedicare il tempo a quello che vedo che si ricollega proprio un po' al discorso della prefazione che è stata fatta sulla fanzine di F4 di questo mese di Gianluca che noi guardiamo ma non vediamo ma non vediamo perché non lo puoi fare non vedi perché non fai una selezione non stai più attento non te ne frega niente te frega solo di te stesso ma questo secondo me è un grosso problema allora perdonami un secondo è giusto comunque salutare anche gli ultimi arrivati Samuele diceva la fotografia oggi è sapersi vendere il marketing prima di tutto purtroppo è così è un po' quello che ci stavamo dicendo con Samuele tra l'altro abbiamo chiacchierato tante volte la pensiamo veramente allo stesso modo oggi i social sono diventati il curriculum anche le aziende quando assumono guardano quello quindi inevitabilmente il primo occhio lo si dà al numero dei follower e questo purtroppo è uno dei grandi mali di questo di questo sistema al pari dei voti a scuola ma ripeto voglio fare filosofia ciao Sergio che ti saluta Paolo grande Paolo Gabriele Longo siete parenti? è mio figlio ah ok ciao Gabriele ok Emanuele giustamente dice che si commenta per onestà intellettuale e poi anche ciao a Marco Rottigni e sì io capisco il tuo discorso Paolo però io ovviamente su questo la pensiamo in maniera differente perché sì io invece seguo tutti perché inevitabilmente prima o poi non riuscirò a vedere tutte quante loro fotografie tutta quanta loro produzione quotidiana non riuscirò a vederla ma a rotazione riesco invece a vedere tutti non ti nascondo che spesso mi ritrovo a scorrendo il mio feed eh quello personale quello della pagina di F4 no quella è una cosa che viene fatta in maniera scientifica e in maniera ordinata e puntuale quotidianamente da me da Nicola da Nicoletta da tutti quanti proprio perché lì si tratta di fare una selezione importante ed è una selezione che valuta tutti quanti gli scatti che vengono fatti quotidianamente per esempio della community parlando del mio feed personale pur seguendo tutti non riesco a vedere sempre ogni giorno tutti quanti e mi capita spesso di vedere ecco Paolo ma proprio l'altro giorno che ho visto la tua fotografia l'ultima fotografia che ti ho commentato erano probabilmente una decina di giorni che io non stavo vedendo più la tua produzione perché ovviamente avendo poi tanti anche follower che seguo girano girano ma poi quando arrivi tu io faccio quello che dici tu cioè poi mi fermo realmente a guardare tutti e guardo in realtà tutta quanta la produzione e non è un caso che magari faccia 10 like di fila nella stessa nella stessa pagina a te Paolo eccetera e poi magari c'è uno scatto che mi mi fa fermare di più e magari è quello che mi spinge poi in maniera quasi violenta a commentarlo però questa è una questione di scelta tu hai dato una giustificazione del motivo per cui segui poco poche persone in realtà ti dico che quelli che si sentono grandi non seguono perché vogliono mantenere il rapporto di 100 a 1 e chi mi vuole chi volesse smentire questa mia affermazione lo aspetto qua e ne parliamo molto molto liberamente no? perché è la verità perché chi si vuole chi si vuole sentire sto cazzo tanto siamo oltre l'ora nel carosello e qualche parolaccia me la permetto che fa 100 mi seguono e uno lo seguo io 101 quindi fanno 202 1010 10.000 100 100.000 1000 questo è il punto allora mi è arrivato un like che poi se lo ritrovo te lo mando è un tizio formidabile che io poi quando mi metto nel like vado sempre comunque a vedere il profilo se un profilo vale la pena poi io comunque lo seguo sono andato a vedere questo tizio formidabile seguito da 16.000 persone e lui non seguiva nessuno zero fantastico è la verità sono la persona più disponibile di questo mondo però ripeto ho più nemici che amici perché io non riesco a tenermi le cose per me se c'è una cosa che mi fa venire proprio qua il pizzico non riesco a tenermela e quindi inevitabilmente la dico ti posso dire che non faccio nomi perché ripeto non mi va di creare polemiche come invece fanno tanti perché tra l'altro le polemiche funzionano di più anche sui social non mi va di fare polemiche quindi fare il nome ma in realtà ne avrei da fare tanti ma ti dicono questi grandi che cazzo fanno vengono mi seguono io li vedo se per me sono insomma valgono li seguo anche io e poi che fanno dopodiché ti cacciano e segui e questa cosa è veramente una cosa quando giocavamo quando eravamo piccolini io Paolo più o meno penso che io e te facciamo scopa con l'età e giocavamo con il Super Santos e ne compravamo uno al giorno perché ovviamente inevitabilmente lo bucavamo a fine giornata e quando il proprietario del Super Santos c'era qualcosa non si perdeva il pallone se lo metteva sotto il braccio e se ne andava basta non gioca più nessuno è la stessa cosa io li paragono a quelle minchiate che facciamo quando eravamo dieci anni che però a dieci anni le giustifichi perché sono bambini sono ancora in fase pre-adolescenziale pre-puberale come la vogliamo chiamare e ci sta dai ci sta ma io a cinquant'anni che vedo con un grandissimo fotografo che c'è tanti io lo seguito è stata una cosa brutta è successo anche a te vero? è successo anche l'ho fatto a mente a rotazione che non si è reso conto che dopo quattro giorni mi è venuto a ridare è una cosa di poi perché poi ho fatto anche notare questa cosa a chi ha fatto questa cosa qui guarda che c'è gente che io ho pagato c'è gente che io ho pagato perché la mia fotografia non viene fuori soltanto dalla mia esperienza dal mio essere musicista dal mio esser voluto andare a fondo nella fotografia averla voluta far diventare il mio unico linguaggio creativo il mio unico linguaggio di espressione no è venuta fuori anche perché sono una persona che quando si mette una cosa in testa gli piace tanto studiarla voglio vedere l'altra parte quello che c'è dall'altra parte voglio voglio mettermi in discussione voglio scoprire quello che non funziona quindi io sono stato uno di quelli che ha pagato workshop ho pagato masterclass e c'è gente che io ho pagato che mi ha tolto il segno e poi quando glielo ho fatto notare questi mi hanno bloccato perché anziché puoi darmi la risposta dice guarda Tullio ti ho tolto il segno perché non vali una cippa e allora li alziamo le mani poi ripeto il gusto è assolutamente soggettivo però vabbè non voglio a me è capitato sempre il fatto che anche stavolta che ho riaperto l'account che quando una persona mi va antipatica per un qualche motivo ma c'è sempre un motivo di fondo e allora poi glielo glielo tolgo ma non è che glielo tolgo anche se mi segue che mi va antipatico per un motivo che può essere qualsiasi anche nell'atteggiamento perché non se osservi tanto capisci tanto di una persona anche senza conoscerla anche con i post con i titoli con le storie quindi poi bastano pochi unisci un po' dei puntini e allora sei sei secco con me sei secco però a me sono modi di affrontare la cosa dai sì infatti poi questa cosa sarà un mio monologo insomma in un video dedicato a questo dove argomenterò un po' anche le cose che dico non voglio fare polemica stasera andiamo avanti perché qui c'è prima salutiamo qualcuno e poi partono le domande che stanno iniziando a farti ciao a Barbara Longo e tua figlia la sorella la sorella appunto avevo già capito volevo evitare adesso di fare brutta figura ciao Barbara Irene ciao anche a te ci abbiamo niente po' di meno che il nostro editorialista di Streetway ciao caro Gianluca aspettiamo ovviamente per il numero di settembre poi 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 tra l'altro Gianluca tu aspettami che io ti venga a trovare di persona perché te lo devo con te voglio prendere una bella granita di caffè con panna e brioche poi ciao Enzo Torra grande Tullio un saluto a tutti grande tu Enzo ti ringrazio Emanuele tranne poi iniziare a seguire in maniera compulsiva parlando dei grandi vabbè abbiamo chiuso adesso l'ho parlato già troppo io di questa cosa Idem Rocco seguo tutti quanti a prescindere indipendentemente dal numero dei follower io questa cosa per me no no nessuna minaccia Gianluca nessuna minaccia è una promessa bella tra l'altro come si dice nelle nostre parti in Calabria vengo sempre bussando con i piedi quindi assoluto verrò con quella che noi chiamiamo stimanza un regalino un presente c'era una domanda per te Paolo e chiedo scusa ad Emanuele Andreozzi per aver ritardato un po' la domanda da fargli ma insomma avevamo iniziato questa nostra chiacchierata abbastanza animata e poi volevo salutare gli altri c'è un fotografo che continui a studiare o guardare i lavori che proponi? Sì ce ne sono due entrambi contemporanei uno è Alex Webb e l'altro è Alan Schaller secondo me Alex Webb sta quasi verso la fine però Alex Webb ci ha riferito dei capolavori compositivi a livello compositivo credo che sia qualcosa di incredibile ma mai viste cose simili difficilmente si vede una composizione come quella che fa lui e ogni tanto mi capita devi aprire anche il libro suo fatto Corrabita e street photography e poesia immagine poetica dove ti devo dire che in fase di lettura ho imparato più da Rebecca ma in fase visiva lui è incredibile e poi Anna Schaller che secondo me è destinato a scrivere l'attoria di questo nostro imperio sarà il fotografo che poi chi verrà dopo di noi studierà tra i grandi del passato mi avete già avuto un paio di domande ma sono contento così mi fa più piacere che te ne facciano gli altri io non avevo dubbi che fossero e ripeto non ce lo siamo detti perché non ci conosceranno non avevo dubbi che i tuoi grandi le tue grandi fonte di ispirazione fossero proprio Alex Webb e Alan Schaller per quanto riguarda Alex Webb io tra l'altro mi sono ripromesso di regalargli un video apposta perché per me è veramente per me come lui non ce n'è è un po' come se si parlasse di calcio il Maradona per me personalmente uno di quegli altri che difficilmente arriveranno continuo sempre a dire magari come voce in maniera più semplice come se fosse una voce fuori dal coro che per me è l'unico che realmente sa dare ordine al caos ed è una cosa che per me è impagabile la foto che non mi manco mai di guardare che mi capita proprio spesso poi di andarla proprio a ricercare per fermarmi e guardarla è quella dell'11 settembre quella che ha fatto alla Torre Gemella su quel terrazzo mentre la mamma sta con la figlia quella foto è incredibile dietro ogni fotografia di Alex Webb c'è veramente c'è un mondo non basterebbero dirette di due ore per parlare di ogni sua fotografia oltre quello c'è la Schaller non avevo dubbi che tu ti ispirassi e che comunque per te la Schaller fosse un grande occhio una grande ispirazione perché si vede nelle tue foto anche quel suo modo di trattare le ombre e le luci e sono comunque d'accordo assolutamente con te che lo è già probabilmente tra i grandi nell'Olimpo dei fotografi di strada lo è e sicuramente lo diventerà al pari degli altri grandi nomi è uno che comunque a parer mio oltre alla grande qualità nella maggior parte della sua produzione è anche uno che ci ha visto lungo nel senso che è anche uno che si è saputo vendere anche tanto a differenza invece dei grandi che non hanno mai pensato a vendersi lo sono diventati a titolo lui è uno molto commerciale è lui per me è un gran marchettaro poi questo non vuol dire che non sia bravo perché lo è io stesso lo seguo e lo ammiro perché per me ha veramente diciamo un po' che è diventato il trend di tanti street photographer e di tanti che oggi parlano di bianco e nero emozionale eccetera eccetera quindi in assoluto a lui bisogna riconoscergli anche questo e io glielo riconosco in assoluto per me è veramente va nell'Olimpo però te devo dire poi la mia siccome sono assolutamente indipendente come sono stato in tutta quanta la mia vita è un gran marchettaro è detto questo non è non c'è dubbio alcuno bravo anche per questo per carità non preoccuparti grazie Emanuele per la comprensione devo imparare ancora a capire bene la regia e tagliare i tempi giusti ecco Orlando dice ho dei dubbi su Schaller sì anch'io è un pochettino quello che ci siamo detti grande qualità però in assoluto per arrivare a chi davvero con le proprie foto ha scritto capitoli di storia alla Schaller è parecchio è una piramide sotto non un gradino è una piramide sotto ecco perché secondo me il problema è questo noi siamo abituati a vedere i grandi solo quando una persona non ci deve stare più con noi per farci piccare un grande perché noi studiamo la fotografia e studiamo Bresson e studiamo Fanon studiamo Reimer Segler studiamo Kappa studiamo i grandi del passato e vanno studiati però noi viviamo in questa epoca e questa epoca non è uguale a quella sono due tipi di fotografie diverse perché la fotografia che faceva Bresson che faceva Kappa oggi non è replicata il mondo è cambiato quindi noi dobbiamo secondo me capire questo innanzitutto noi siamo fotografi dobbiamo fermare questo di tempo perché non ce l'abbiamo quello non ce l'abbiamo più secondo me io sono stato a costa di Mimino Tarangelo al Maxi stavo con la mia compagna io sono uscito dal Maxi di lacrime sono uscito per il genere però purtroppo quelle cose là che a me piacerebbe fotografare sono difficili oggi da trovare perché la vedova vestita a nero affacciata al balcone oggi non c'è più perché le vedove oggi non si restano più da nero quel mondo là noi non ce l'abbiamo più l'abbiamo perso col tempo abbiamo perso le nostre tradizioni abbiamo perso le nostre abitudini abbiamo perso un sacco di cose quindi non non dobbiamo dobbiamo vedere questo contesto qua e io in questo contesto qua faccio fatica a trovare fotografie che rappresentano il mondo d'oggi come lo può rappresentare lui poi ripeto come persona magari sicuramente c'ha degli atteggiamenti che sono anche difficili facciate tutti per carità però fotograficamente per me lui rappresenta l'oggi ma guarda che io non non sto non voglio non sto e non voglio assolutamente criticare Alan Schaller perché ti ripeto seguo anche io e ammiro terribilmente io faccio un discorso un po' diverso l'ho già trattato con Gianluca tra l'altro quando ci siamo visti sul suo canale e parlavo proprio di questo per me c'è una grande distinzione tra il reportage e la street photography e oggi si fa grande confusione anche nello studio perché continuare a parlare di Bresson come street photographer a me viene la pelle d'oca l'occhio del secolo lo è sicuramente continua a dire assolutamente a titolo ma lui era un reporter lui diceva la verità raccontava la verità lo street photographer racconta la propria verità e già questa cosa è una cosa estremamente differente ed è il motivo per cui io continuo a dire che per me la street photography è una bugia e ci stanno costruendo la bugia del ventunesimo secolo i fotografi detto questo è normale che nella rappresentazione delle fotografie di oggi bisogna catturare l'oggi il discorso è che mentre le fotografie dei grandi indipendentemente dal reportage o dalla street dall'ironia dalla capacità di osare che hanno avuto alcuni rispetto ad altri ad oggi io ci vedo una grande differenza ed è questo il motivo per cui io oggi continuo a imparare e ispirarmi da chi ha 100 follower non 50.000 perché la differenza tra chi ha 100 follower e 50.000 è solo una chi ha 100 follower mi fa vedere il mondo con i suoi occhi chi ne ha 50.000 mi fa vedere il mondo come lo voglio vedere io e questa cosa è quello che ha imputtanito la street photography è quello che l'ha resa brutta è quello che l'ha resa una moda è quello che l'ha resa uguale è quello che l'ha resa uguale la street photography perché quando comincia a sentirti più bravo di me comincia a fare quello che fa la schaller o o quello che fa chi ha 50.000 follower e quindi i copi è il motivo per cui tutti quanti ti parlano di stile di stile sto stile sto stile e vi sto preparando un altro video per specificare per dare una spiegazione ancora più puntuale a questa cosa in realtà ci siamo dimenticati e quando io dico che Alan Schaller per quanto sia per me sia immenso e continuo a dirlo per me Alan Schaller è immenso perché oltre alla bellezza delle sue foto alla sua capacità tecnica e anche ripeto uno che ha una testa che è grande così perché per creare quel movimento lì quel modo di fotografare ci ha pensato ecco perché dico che è un marchettaro si è saputo anche vendere e sta continuando a sapersi vendere il problema è che dietro alle sue fotografie ci manca tutti quei capitoli di storia che in realtà riesce a leggere dalle fotografie di Alex Webb o di Capa o di Kudelka o io ho scritto un articolo insieme a Francesco Lupo sulla sulla battaglia no? allora il concetto voglio dire io è questo quando la battaglia dice ma tu eri in un'intervista le chiedono ma tu eri la fotografia della mafia no io sono la fotografia delle donne e allora perché non ci sono uomini nelle tue fotografie è perché gli uomini quando io fotografavo o erano in galera o erano morti ammazzati questo è il concetto dietro le fotografie della battaglia ci sono delle storie Paolo dietro le tue fotografie ci sono delle storie altrimenti non le avrei commentate dietro le fotografie di tanti di F4 ci sono delle storie o altrimenti non le avrei commentate è questo Paolo e io da parte tua so che questa cosa tu la fai perché me ne accorgo perché anche io osservo e lo vedo e questa è la differenza che per seguire il trend di Alan Schaller la gente si è dimenticata di guardare il mondo con i propri occhi e sta cercando di guardare il mondo come lo vogliono vedere i seguaci di Alan Schaller e questa è la grande differenza tra chi ha cento follower e diecimila ed è il motivo per cui io sono più infelice e più orgoglioso di seguire gente che ha meno follower di me piuttosto che seguire quelli che ne hanno di più perché chi arriva a un certo punto siccome si comincia a sentirsi anche ah cazzo io ma sono figo ah c'ho diecimila follower sai io ho diecimila follower ne seguo ne seguo me e lei io sono fighissimo non fotografa più per farmi vedere che cazzo c'ha dentro quello che sente non si capisce più dalle sue fotografie se è triste se si è lasciato con la zita oppure se gli è nato un figlio oppure se sta vivendo un momento difficile o se è felice non si vede più si vede soltanto la sua ricercatezza delle luci delle ombre il taglio il colore io bello bello però un esercizio stilistico io ne parlavo proprio con Samuele l'altra volta e poi io chiudo questo discorso perché ci sono tante altre domande e veramente voglio dare spazi a tutti ne parlavo con Samuele che è un altro che come me suona io la chitarra lui il basso e mi hanno chiamato l'altro giorno un gruppo insomma di questa in città qua di Anagni dove mi sono trasferito fine agosto per dirmi sai ci servirebbe un chitarrista guarda noi avevo già capito insomma che non volevano dall'annuncio e guarda non sono chi fa per voi no ma tu suoni la chitarra sì ma io sono sono un altro tipo di chitarrista a noi ci serve un solista no il problema è quello ci sono grandi chitarristi che sono vengono chiamati in gergo shredder sono quelli che che fanno le scale il volo del calabrone chitarristi dalla madonna tecnicamente sono impressionanti però è un esercizio stivistico trovate mi vuoi qualcosa di bello in chi ti fa il volo del calabrone in 420 bpm al minuto cioè non si capisce un cazzo è quello che dico io attenzione amo Alan Schaller e lo dico davvero lo seguo lo vedo mi piace mi piace cioè mi piace da morire Alan Schaller il problema è che per seguire Alan Schaller in tanti hanno perso di vista il motivo per cui in realtà dovremmo scattare fotografie il motivo per cui hanno iniziato a scattare fotografie il motivo per cui hanno iniziato perché non ci dimentichiamo che tutti quanti abbiamo iniziato a fotografare perché ci ha restituito la fotografia qualcosa la fotografia è stata per noi che abbiamo iniziato a fotografare la prima volta è stato una scintilla che ci ha dato qualcosa poi dico questa poi ovviamente è un mio modo di vedere è sicuramente abbastanza colorito vi chiedo scusa a tutte le donne andiamo avanti con le domande che te ne stanno facendo tanto io sto perdendo il filo Paolo tu ovviamente intervieni quando vuoi sei l'unico che mi vuol dire tu gli abbastano ok no no se scrivono io perdo tempo è il motivo per cui mi servirebbe un regista a me reale mentre faccio le live allora ecco qua mi inizi che ho perso qua Emanuele dice il mago della sottoscrizione estrema sottoesposizione no questa è un'altra cosa che non condivido perché lui non sottoespone assolutamente non è la fotografia sottoesposta è un discorso un pochettino diverso sulle ombre che assolutamente chiude per dare molta più profondità chiudendo i neri però questa è un'altra cosa tecnica ripeto però ci siamo capiti Emanuele perché la pensiamo allo stesso modo ecco Orlando ci dice che non tocca la sua anima perché un po' no ma sì poi ovviamente tutto è molto soggettivo preferisco Mark Black Mark Black ovviamente insomma anche lì con me sfondi una porta aperta poi ne parleremo insieme anche di lui Osvaldo Orlando mi confondo tra Osvaldo e Orlando ancora scusa una domanda da ignorante della fotografia ecco Enzo secondo voi chi è il padre della street photography così magari da iniziare a scoprire questo mondo che mi affascina ma che purtroppo non ci capisco nulla Paolo voglio rispondere tu perché io se rispondo vado lungo comunque rimane il bel sonno per me rimane il bel sonno poi si possono dire tante cose su questo anche questo anche questo è un argomento che sarebbe bello da approfondire però secondo me è stato un bel sonno è stato un bel periodo quello comunque sicuramente è stato un bel periodo è stato un bel periodo io questa cosa ripeto non sono pienamente d'accordo ne ho parlato un po' nel numero di luglio della fanzine ho scritto dopo un articolo su Bresson quindi insomma diciamo che sono uno che lo ammira l'ha studiato continua ad ammirarlo continua a studiarlo perché poi io sono di quelli vecchio stampo che un libro quando mi lascia qualcosa e per me quando dico mi lascia qualcosa un libro è che quando arrivo alla fine del libro mi manca il protagonista prima o poi lo rileggerò e la stessa cosa faccio con le foto perché poi le riguardo ne riparlerò comunque ancora di Bresson o una mia teoria per me non è stato lui però ecco ti dico Enzo in maniera molto breve poi iscriviti al canale e ci sono tante tanti spunti interessanti proprio su su questo su chi e cosa è la street photography sempre secondo ovviamente il mio modesto modesto parere però ne riparleremo sicuramente grazie Enzo Emanuele ti consiglio di iniziare da Robert Frank e anche lì voglio dire alziamo le mani poi distinguere la fotografia americana da quella italiana ci saranno modi diversi assolutamente sì e anche questo c'è tanto da dire ovviamente anche su questo non si discute quella europea dalla parte quella americana che è venuta dopo adesso c'è quella c'è anche quella orientale insomma di fotografia che non va dimenticata e di questo abbiamo parlato proprio con Francesco Lupo in privato e un'altra cosa che tratteremo a breve sempre sul sul canale però ottimissima osservazione mi trovi pienamente d'accordo sono mondi diversi così come giustamente diceva prima bene Paolo è un mondo diverso quello di una volta rispetto a quello di adesso quindi si guarda sempre dietro questa cosa Gianluca proprio di Street Trover sa come la penso e ho sempre detto che io preferisco continuo a guardare di più l'attualità che non il passato perché sono proprio cose assolutamente diverse poi ok devo scendere come noi oggi la fotografia su Instagram ovviamente garuba italianissimo e midesto e modesto modesto sì storicamente parlando John Thompson autore di Street Life in London e lì di nuovo chapeau grande Gianluca ma voglio dire Gianluca ne parla già da tanto tempo Gianluca è un grande conoscitore di tutta quanta la street photography non è un caso che abbia scelto lui per affidargli l'editoriale della della nostra fanzine perché per me è l'unico in Italia che può permettersi di parlare di storia della street photography perché non se la prenda perché in realtà dicendo adesso dandogli questo aggettivo gli faccio un grandissimo complimento che purtroppo viene utilizzato in maniera un'accezione negativa ma non lo è lui è un nerd della street photography è uno che veramente abbiamo perso Paolo ecco è uno che la studia continua a studiarlo giorno dopo giorno è uno che per me in Italia conoscitori della street photography come io non ce ne sono ed è l'unico che si può permettere di dire certe cose ci siamo? sì ci siamo ci siamo Giulio grazie a tutti eccoci è caduta la linea ed ecco anche Paolo scusateci sono il bello della diretta è anche questo Paolo ci sei? sì o sono caduto solo io? no penso di essere caduto io e di conseguenza ho fatto cadere anche te la team fa anche questi brutti scherzi gli do ancora scusa più che altro chiedo scusa a Gianluca perché gli sto facendo un gran complimento lo dico perché ci tengo in Italia per me è l'unico che si può permettere di parlare di storia dalla street photography quindi in assoluto la sua di risposta è quella che io personalmente accendo ecco grazie Gianluca andiamo ritorniamo dove eravamo prima Enzo Toro grazie delle risposte grazie a te concordo su tutto Tullio lo sai benissimo come la penso sì assolutamente con te Samuele insomma abbiamo chiacchierato con te con Emanuele insomma con Rocco insomma tra di noi più intimi lo sappiamo sempre grazie del supporto anche in questa risposta perché so che tutte le volte che io la dico mi accendono sono quelli che mi fanno stare più moderato Schaller mi piaceva molto ho appena conosciuto poi mi ha stufato un po' proprio per il famoso stile molto ripetitivo mentre le produzioni recenti cominciano a piacermi nuovamente ha cambiato effettivamente un pochettino Schaller ma perché ripeto è un altro che ha una grande visione Enzo Torra andiamo avanti lo stile è un muro che ti costruisci intorno da cui poi fatichi ad uscire ma sì questa cosa l'ho già detta abbondantemente la ribadirò perché insomma sto preparando un altro contenuto ad hoc penso che lo stile c'è un po' un discorso sbagliato intorno allo stile voglio non dirlo a me secondo me la fotografia è molto umorale è un fattore umorale è un fattore di sentimenti quando esci a fotografare non c'hai sempre lo stesso umore non c'hai sempre gli stessi sentimenti quindi non farai se sei un buon fotografo ti lasci trascinare dalle emozioni e non fai mai sempre la stessa foto non so come spiegarmi bene cioè io tratto molto le luci e le ombre perché c'è un motivo mio personale strettamente mio fisico è un bisogno che sento di fare quel lavoro là però ecco oggi ho pubblicato una foto che ho fatto oggi sono tornato a casa ho trovato mia madre abita sotto di me a fare le fettuccine mi è venuto a fare questa foto e di pubblicarla mentre tagliava le fettuccine non è luce e ombre non è lo stile è sempre il mio molto oscuro molto contrastato però è un altro tipo di fotografia perché io oggi ero più tranquillo ero più sereno ero un po' più aperto che mandava di qualcosa secondo me la fotografia è un fattore intimo umorale quando sento parla di stile che pensa che palle uno che fotografa dopo i 50 anni fa sempre la stessa foto allora capisco esattamente cosa vuoi dire io ci ho fatto un video apposta è uno dei motivi per cui litigo sempre con tutti è proprio quello perché tutti quanti non fanno altro che dire ai propri studenti cerca il tuo stile cerca il tuo stile cerca il tuo stile cerca il tuo stile io più di una volta mi sono ostinato a dire la più grande cazzata che un insegnante può dire ad un allievo ad un alunno o è anche il peggior consiglio che può dare chiunque a qualcun altro però attenzione anche lì a capire la differenza tra reportage e street photography la stessa differenza che c'è tra stile e e il preset o meglio e il modo e il tono che è diverso sono due cose differenti lo stile lo stile è un'altra cosa Paolo io so quello che stavi dicendo ti metto sono concordo esattamente con te l'ho detto più di una volta e ci ho fatto già un video ad hoc e ne sto preparando un altro perché voglio anche spiegare bene questa differenza lo stile possiamo dire di uno stile dopo molto dopo perché lo stile ha a che fare con 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 un modo che poi diventa assolutamente personale lo stile è quello della la calligrafia che tu dopo una vita arrivi a scrivere in un modo e quella è una calligrafia ok che è diverso dal tono da 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 come non c'entra niente lo stile con il bianco e nero e il colore per intenderci per semplificarla adesso molto molto semplicemente Elisa ciao quindi come in ogni ambiente bisognerebbe dare la giusta importanza alla tecnica senza sovrastare il vissuto che c'è nello scatto le emozioni che dovrebbero trapelare siamo grazie a Dio chi ci frequenta come F4 è quello che fa grazie a Dio quindi io sono veramente felice di scoprirlo ogni volta che vedo le vostre foto e ogni volta che mi sento dire questa cosa così come Paolo che ci sta dicendo quello che poi in realtà sono i valori nostri di F4 in modo sistematico ok ancora Schaller grazie a voi già iscritto al canale grazie Enzo ah e Paolo abbiamo dimenticato di una cosa importante iscrivetevi al canale clic 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 accendete la campanella che è fondamentale insomma ci vediamo qua sempre una volta a settimana con le live con direttamente dalla strada e poi un video a settimana e tante altre piccole chicche che poi scopriamo alla fine Orlando una domanda per i due che ne pensate delle foto singole oggi sembra di essere una dittatura dei progetti ah santo Orlando un'altra persona che certe volte mi legge nel pensiero dico prima io la mia Paolo se non ti dispiace poi tu ovviamente dici anche tu la tua per tra l'altro un'altra domanda che io ti volevo fare ma è un po' diversa poi ti chiederò una cosa in più i progetti sono un'altra cosa per me i progetti sono un'altra cosa la capacità della fotografia così come di una canzone così come di una poesia bisogna essere capaci di di dare un significato anche a una singola foto e poi magari per carità dire anche qualcosa in più con un insieme di fotografie creando un progetto però ci sono progetti che certe volte durano una vita io ce l'ho un progetto non l'ho mai nascosto che è la solitudine e non è un caso che alcuni scatti li abbia intitolati tutti quanti allo stesso modo la solitudine è un continente perché è un progetto ma non è finito e non finirà mai probabilmente se non quando avrò smesso di di fotografare però per me l'importanza della foto singola dalla capacità di esprimersi e di raccontare qualcosa con una foto singola per me impagabile ed è una cosa che per esempio hanno hanno in pochi hanno veramente in pochi per me la street photography è la fotografia singola il progetto poi è un lavoro che ecco io per dire sto portando avanti un lavoro perché ho intenzione di fare una mostra entro il prossimo anno ma le mie sono tutte foto singole cioè ci metto un anno perché mi serve una serie di dieci foto e io durante un anno produrrò cinquemila foto cinquemila scatti e ne devo estrapolare di altri per poter fare questo ma non è che esco perché devo fare la foto sostanzialmente sono foto singola per me almeno per quello che mi riguarda e la foto la fotografia street è una foto singola non è uno storytelling una un reportage poi c'è se vuoi fare una mostra devi creare una storytelling devi creare un rapporto tra una foto e l'altra allora fai il progetto sostanzialmente è foto singola sempre sto d'accordo con te però ti posso fare un invito come no anzi lo faccio a tutti ci sono due video sul canale che ho fatto parlando di storytelling vi invito a a dargli un'occhiata e e poi darmi un feedback cioè è il mio modo di trattare la fotografia la street photography e di raccontare storie con la street photography e e io sono d'accordo con te Paolo al cento per cento l'unica cosa è che secondo me si può essere capaci di raccontare una storia quindi saper fare storytelling anche con un singolo scatto secondo me la possibilità c'è e poi Marco Rottigni pensate che i social li appiattiscono la realtà sì 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 perché c'è la ricerca è un po' sì perché quando non c'erano i social giocavamo con queste a pellicola e c'avevamo dieci mila lire da buttare nel rullino facevi qualsiasi tipo di fotografia e poi le stampavi uguali come erano venute e che erano venute oggi invece siamo i social ci costringono un po' andare in una direzione dove stiamo sempre attenti e io sono il primo per carità di Dio non è che mi tiro fuori dal discorso questa foto questa foto è composta bene questa foto è tagliata bene questa foto è inquadrata bene ok allora si può pubblicare non è proprio così quindi poi giustamente come di Dio Marco o i social appiattiscono la creatività perché non si guarda più oltre poi questo è un altro argomento insomma che ho trattato già un po' marginalmente ma si appiattiscono per me assolutamente appiattiscono Paolo hai ragione tu ma il motivo è un po' diverso è lo stesso motivo per cui c'è stato il periodo in cui la televisione è arrivata la televisione no e lì per reclamo le modelle erano magre per dirne una il fenomeno di Paris Hilton sì il fenomeno della Barbie diciamo e le ragazze hanno cominciato a diventare scoppiata l'anoressia perché poi è proprio la voglia di omologarsi a quello che viene ti viene detto ti viene fatto ti viene quasi imposto che è bello ed è il motivo per cui i social stanno appiattendo la fotografia e tante forme artistiche è successo anche con la musica ed è quello che dicevo prima hai 100 follower e per me hai molte più cose da dire rispetto a se hai 10.000 follower perché quando giustamente dici tu Paolo scattavamo con l'analogico avevamo il rullino quelle fotografie che quando le andavamo che pagavamo per svilupparle svilupparle e vedere che cosa avevamo prodotto quelle fotografie come hai giustamente detto tu rimanevano chiuse in un cassetto un pochettino adesso poi non voglio aprire la polemica sulla mail però ecco come questo archivio personale chi le vedeva le tue fotografie stampate le vedeva la famiglia le vedeva la compagna a meno che non fossi già un fotografo che voleva fare qualcosa che era riconosciuto e voleva proporsi però normalmente la stragrande maggioranza delle fotografie erano fotografie rimanevano in un archivio privato e quella cosa però è un pochettino come il diario che tenevamo che tenevano per non sembrare adesso un romanticone che tenevano le ragazze quando erano piccole da adolescenti anche loro lo tenevano chiuso in un cassetto questa cosa gli permetteva di esprimersi senza vergognarsi mai con nessuno indipendentemente se poi sapessero scrivere se sbagliassero un congiuntivo o qualsiasi altra cosa era un'espressione bravissima la spontaneità più grande io questa cosa la dico sempre tutti quanti pisciamo quando ci facciamo la doccia però nessuno ha il coraggio di dirlo tutti quanti ci mettiamo la dita nel naso e nessuno ha il coraggio di dirlo questa cosa la dico non perché dobbiamo ovviamente uniformarci alle bestie no lo dico perché nella solitudine quando non c'è quando non siamo esposti al giudizio di qualcuno siamo più sinceri siamo più sinceri siamo più veri e quindi se mi va di fare una fotografia storta faccio un esempio adesso ovviamente sto semplificando il concetto ma se mi va di fare una fotografia storta la faccio tanto il cazzo non la deve vedere sta fotografia cioè me la tengo per me mi piaceva ho visto quella cosa particolare il motivo per cui oggi addirittura è diventato diventa un'onta oddio se fotografi un gatto ti tolgo il segui e quindi io sfido chiunque che non ha la fotografia di un gatto nel proprio archivio nel proprio hard disk lo facciamo tutti il social ha piattito la fotografia per questo motivo perché oggi pubblichiamo perché cerchiamo l'approvazione ed ecco perché abbiamo si è appiattito tutto perché per avere l'approvazione dobbiamo produrre quello che già sappiamo piace agli altri alla gente alla maggioranza della gente questa cosa ci impedisce di essere assolutamente onesti con noi stessi che è l'unica cosa che in realtà l'autenticità che ci permette di fare qualcosa di unico e di diverso quando nel video della scorsa settimana io parlo proprio della della capacità artistica che tutti quanti noi abbiamo parlo proprio di quello noi dobbiamo essere autentici se abbiamo il coraggio e impariamo ad avere il coraggio di fare quello che noi reputiamo importante di scattare quello che noi reputiamo bello le fotografie ci escono e poi da lì nasce un continuo studio la ricerca per migliorarsi rispetto al Tullio di ieri ma non devo scattare una fotografia per essere più bravo di Paolo io non lo faccio non la faccio alla conta dei like non la faccio alla conta dei follower è una cosa che ok sì la domenica comunque è sempre quella di scattare per se stessi quando stai con la tua macchina fotografica e hai un rapporto quasi intimo carnale con la macchina fotografica devi scattare solo ed esclusivamente devi fare quello che piace a te senza preoccuparti poi di eh ma questo tipo di fotografia non tira questa non piace questa è fatta male questa bisogna fotografare per se stessi e basta poi i social sono un buon motivo di confronto come c'è su F4 F4 è un motivo di confronto è un bel ritrovo per confrontarsi perché ci sono persone anche che chiedono perché semplicemente perché e se si ha cioè si aprono dei bei dialoghi io ho avuto un bel dialogo l'altro giorno con Emanuele e perché ho visto la diretta che ha fatto qua e ci siamo poi confrontati privatamente è stato bello proprio parlare con Emanuele come motivo di confronto e questo qua la fotografia deve rimanere un motivo di confronto cioè se noi cominciamo a farla il pensiero dove dobbiamo entrare nei magnum photographer siamo già partiti col piede sbagliato dobbiamo fare una parte di te assolutamente assolutamente d'accordo porto Iella mi hai rovinato troppe volte no no mi sono portato Iella da solo tra stile tecnica sì anche quello è questa differenza bravo Samuele Emanuele è brutto parlare di tecnica che chiamiamo la linguaggio ho capito Emanuele cosa vuoi dire sono d'accordo con te però probabilmente abbiamo utilizzato male alcuni termini nel senso che è il motivo per cui ecco io la voglio trattare poi in maniera molto puntuale perché quando poi si va un po' come stiamo facendo adesso la classica di chiacchiere da bar certe volte lasciarsi fraintendere è un attimo poi 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 Emanuele magari sbaglio ma credo che per tecnica si possa intendere quelle regole se che seguite rendono uno scatto di qualità le qualità per tutti il linguaggio alle sue regole ma è legato al per quale è andato via e qua io non lo so se io non penso che sia il caso che vi parli adesso di tecnica e linguaggio no perché sono già le dieci e mezza e se no vi faccio fare l'una e non è il caso però vi prometto che ne riparleremo in maniera molto molto puntuale perché tra l'altro è una cosa che mi interessa molto anche sapere da parte di tutti poi che cosa che cosa ne pensate perché è una cosa fondamentale ed è purtroppo uno dei motivi per cui io personalmente ci metto la faccia perché vado contro quello che ad oggi stanno invece insegnando tutti e che reputo assolutamente sbagliato la tecnica c'è la tecnica esiste la tecnica è importante non si può prescindere dalla tecnica il linguaggio può essere anche privo di tecnica può essere anche un linguaggio semplice molto molto semplice cioè pensate alla fotografia quando io parlo di fotografia come linguaggio proprio e c'è gente che comunica senza conoscere le regole della lingua comunque comunica la fotografia e l'ho detto proprio nella quando ho parlato di composizione non perché io non l'abbia studiata o non perché io non continui a studiarla giorno dopo giorno la composizione ma prima ancora di preoccuparci della composizione così come viene insegnata sui libri e dai grandi preoccupiamoci di esprimerci e poi di conto la battaglia quando ha cominciato a fotografare non sapeva minimamente cosa stesse facendo bravo bravo il concetto è questo beh non so se è qua al posto ma io ho avuto il piacere di conoscerla di incontrarla lei si è portata a casa delle mie stampe e questa per me è la più grande vittoria che io potessi avere nel mondo della fotografia cioè io posso raccontare che ho avuto uno scambio di mail con lei che quando si è portata a casa le mie stampe io pensavo che fosse finita da là invece il giorno dopo mi ha scritto facendomi complimenti per le fotografie era un altro tipo di fotografia non è questa fotografia che faccio oggi perché era un altro era un'altra persona erano delle fotografie che avevo fatto quando collaboravo con Termini TV che raccontavano un po' le storie della stazione Termini nei vintorni della stazione Termini gli ho portato una stampa e per me è stata una grande vittoria lei quando ha cominciato a fotografare non sapeva minimamente quello che stava facendo però poi però poi è diventata perché come dici tu la tecnica è una cosa e il linguaggio è un'altra e il linguaggio può essere molto più forte della tecnica ma io non discuto io mi hanno rimproverato anche che io parlo troppo di musica beh scusatemi ognuno ha i suoi difetti e i Cure non sapevano suonare eppure hanno fatto hanno segnato un'epoca Michael Stipes dei Ram ha sempre cantato e suonato su un'unica ottava l'unico al mondo da sempre che ha costruito strofa e ritornello su un'unica ottava eppure ha fatto la storia del rock non sono tutti quanti Jimi Hendrix adesso che mi piovesse addosso gli insulti peggiori di questo mondo Jimi Hendrix non sapeva suonare la chitarra perché Jimi Hendrix non utilizzava la chitarra non la pensava come fosse una chitarra eppure ha creato uno stile ha creato un linguaggio aveva un linguaggio talmente tanto articolato che ha cambiato il modo in cui tutti quanti gli altri dopo di lui hanno suonato la chitarra e tutti gli altri che sono venuti dopo suonano meglio hanno suonato e suonavano tutti quanti meglio di Jimi Hendrix ma chi in realtà veramente ha saputo esprimersi il primo che sapeva esprimersi è stato lui il concetto è quello e secondo me la stessa cosa vale anche nella fotografia il messaggio per me vale molto più della tecnica ed è questa la differenza però ripeto poi mi prenderò qualche minuto insomma per parlare in maniera più puntuale di questa cosa perché è un argomento che mi sta talmente tanto a cuore e che per me è talmente tanto importante che io vorrei evitare di trattarlo male o di lasciare aperti dei frantendimenti perché sennò faremmo più danni che altro ma penso comunque di capire che da quello che ci stiamo dicendo tutti quanti stasera siamo tutti quanti là giusto Paolo anche tu pensi che sia più importante il messaggio Rocco ovviamente fa i complimenti a Emanuele per la domanda sarà assolutamente una bellissima domanda e dice che Gianluca non sarà d'accordo sul progetto e sull'idea delle fotografie singole sempre Lisa il soggetto la persona proprio in dualità per tecnica intendevo proprio tecnica ma magari mi sto approcciando solo ora al mondo della fotografia e sono in errore in tal caso mi scuso non scusarti Elisa perché in realtà per me è centrato proprio il punto continuo a dire che la tecnica è fondamentale io a questo riguardo ci tengo a dire una cosa ormai la maggior parte tutti quelli che mi seguite insomma su YouTube che seguite F4 sanno che noi abbiamo portato in mostra 200 più di 200 fotografi di F4 ognuna con le fotografie eppure tra queste fotografie che avevo selezionato personalmente con l'aiuto di Nicoletta c'erano fotografi non faccio il nome ovviamente perché questa cosa potrebbe risultare a chi ascolta non per me una un'offesa o una critica ma per me non lo è quindi evito di fare i nomi ma ci sono stati fotografi che ho portato in mostra perché ho scelto personalmente quelle fotografie che scattano in A in automatico completamente in automatico non sanno cosa siano tempi ISO diaframi non sanno niente scattano in automatico eppure quelle fotografie per me sono immense perché quelle fotografie hanno qualcosa da dire hanno detto qualcosa con quelle fotografie non è un caso che proprio quei fotografi utilizzino la fotografia come diciamo volgarmente sfogo perché è necessario è un corso pure questo da ecco sarebbe un argomento anche questo da affrontare perché anche qui secondo me è tutto il sistema il ragionamento che è sbagliato intorno a quella che è la street se usi la macchina fotografica devi saper fotografare in manuale deve essere tutto manuale però se scatti col telefono va bene il telefono la foto la fa in automatico quindi alla fine il messaggio che tu trasmetti non è il mezzo non è è come dici tu è una questione di linguaggio più che di tecnica allora quando il messaggio arriva anche la foto fatta col telefono è una gran foto per me ma io ti dico che prendiamo adesso senza entrare poi perché anche lì ho detto la mia ho avuto belle belle discussioni belle belle capocciate ci siamo tirati con alcuni professoroni parlando proprio di questo il concetto della fotografia in manuale non esiste ragazzi punto chiudiamo questa storia perché se vogliamo fare veramente street photography parliamo di reportage il vero manuale non esiste ma non è mai esistito nel senso che già e questa cosa ripeto la sbocciano così al volo quando scattavamo in analogico con la pellicola scegliere una pellicola rispetto ad un'altra vuol dire che già soltanto uno dei tre parametri fondamentali per la corretta esposizione della fotografia già uno veniva tolto ne rimanevano soltanto due che erano tempi e diaframmi perché gli ASA erano già stabiliti in macchina punto perché avevamo fatto già una scelta a monte quindi quello è il concetto il fatto è che esistono parlando dopo dei grandi del passato quante fotografie che sono passate alla storia sono fotografie tecnicamente sbagliate tecnicamente con non nitide fotografie con parti della scena tagliata c'erano ma se il messaggio arriva arriva ecco perché dico è un linguaggio fa bene Emanuele quando dice bisogna parlare anche delle regole ed è un discorso lungo sono d'accordissimo le regole sono fondamentali allora io i primi cinque anni che ho cominciato con la fotografia io lavoravo solo ed esclusivamente in manuale e e questo mi portava tante volte a fare l'errore non a fare l'errore a perdere lo scatto perché quando tu soprattutto in stritta passi da una zona d'uva a una zona luce la macchina la devi rimpostare da tutta devi chiudere il diaframma devi aumentare i tempi devi cambiare l'eiso e tu perdi lo scatto col tempo ho imparato a affidarmi alle iso automatiche poi non mi è stato più sufficiente nemmeno quello quindi ho cominciato a capire con l'esperienza che se noi compriamo delle macchine che costano 3000 euro e ci affidiamo a quei software così potenti da fare e quel lavoro bisogna che poi te ci affidi se no non c'è senso nemmeno l'attesa quindi io oggi sono arrivato a lavorare in priorità dei diaframmi con le iso automatiche le uniche due cose che regolo quando scatto sono e tu non ci crederai perché sono due cose che non regola nessuno sono la compensazione dell'esposizione e la misurazione dell'esposizione sulla messa a fuoco che cambio da ponderata ad arte luci e a matrix cioè un tasto rapido con cui cambio il tipo di esposizione perché facendo le foto a luce e ombre una volta che hai capito come funziona la scena e capisci come funziona la luce sai già che tipo di misurazione deve fare la messa a fuoco cambio la misurazione e lavoro praticamente insieme all'automatismo in manuale non ci lavora più nessuno la cosa del manuale è passata proprio perché le macchine fotografiche sono state fatte così apposta che dà la possibilità a noi di essere più creativi e la creatività la creatività la crei con altro non la crei facendo creare il mondo che tu fotografi tutto in manuale anche foto c'è gente su instagram che fotografa con l'iphone che fa una street da paura una street bellissima ma guarda io ho fatto un video proprio apposta dove parlo anche io ovviamente anche io scatto in modalità diaframma prevalentemente se non di notte che cambio e utilizzo i tempi ma quella è una scelta magari molto personale e con come te ma in realtà è il modo migliore per fotografare con gli iso automatici ovviamente un limite che è quello della tua macchina fotografica e su quello poi ovviamente ti muovi sui tempi e utilizzi la compensazione una volta che poi stabilisci come esporre ma quello del manuale rientriamo nel concetto non facciamo passare che la tecnica diventi un esercizio stilistico la tecnica è importante è fondamentale in tutto se voglio scrivere un libro non lo posso scrivere se sbaglio i congiuntivi o non so mettere non so distinguere la e congiunzione dalla e verbo ovviamente per scrivere un libro un minimo di grammatica e quindi di tecnica parlando in questo caso grammatica analisi logica analisi del periodo devo conoscerla allo stesso modo anche per la fotografia nessuno io non voglio demonizzare la tecnica la tecnica è importante e fondamentale e la tratteremo la tratto già un po' ma la tratteremo sempre meglio sempre di più e sempre meglio il concetto è che la tecnica deve servire al motivo per cui ti vuoi esprimere la tecnica non serve per farti venire l'ispirazione la tecnica serve per dare voce all'ispirazione che hai l'ho già spiegato benissimo in un video e prendo e prendo sempre prendo sempre in prestito la poesia di Bukowski così vorresti fare lo scrittore se non ti nasce da dentro con l'esplosione non farlo se vuoi scrivere un libro perché vuoi piacere alla tua ragazza perché vuoi sentirti dire bravo dalla mamma o dall'amico non farlo scrivi solo quando ti esce violentemente da dentro quando non riusciresti a trattenerlo ecco lì poi ti serve la tecnica per scriverlo con il libro la tecnica ti serve e continuo a dire solo per dare voce a una cosa che c'hai dentro poi e quindi non so Emanuele se sei d'accordo con me Gianluca l'anima della street le serie posano piatte per uscire dal concetto social network e su questo vedi anche qui Gianluca è stato molto molto puntuale con due parole ci ha seccato tutti dicendo una cosa assolutamente vera il progetto ti permette di quello che dicevo prima ti permette di esprimere molto di più il ritornello lo special in una canzone si inserisce che differisce dalla strofa del ritornello per dire ancora qualcosa in più sul brano ok mi manca sempre la terza la terza con una cosa si parla di questo io non scatto per fare un progetto però dopo anni scattando onestamente tra le tante foto che abbiamo messo insieme ci può essere un progetto sì perché poi se noi scattiamo sempre con onestà nostra perché abbiamo dentro questa voce che vogliamo far uscire inevitabilmente abbiamo un'idea in testa che poi riusciremo a chiudere in un progetto il punk dovrebbe essere studiato in fotografia a santo samuele ovviamente tra me e lui che siamo due panchettoni non poteva che essere così però è la verità io ho sempre utilizzato questo termine punk 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 io sono punk io sono punk e lo sì e punk anche la mia fotografia e vuole dire questo samuele nel senso che il punk è il motivo per cui per esempio è nato in inghilterra e in Italia non ha mai attecchito il punk perché il punk è una rivolta è contro è contro tutte tutto ciò che è precostituito quello che ci deve piacere per forza il punk è una rivoluzione e e e veniva è venuto fuori un pochettino come il blues perché stavano male e e sono messi a fare questo la stessa cosa deve succedere con la fotografia deve essere una una rivoluzione personale di ognuno la la fotografia perché rischiamo di fare dei cliché e oggi purtroppo di cliché ne vediamo tanti giustissimo a caso i libri di web nascono così in corso l'opera ecco andiamo avanti io sto scorrendo perché Paolo ti sei salvato da domande proprio difficilissime che ti avrei fatto io stasera proprio difficilissime sono pronto a tutti di web e di molti altri grandi un'altra cosa invece un reportaggio vedi ma siamo io ripeto grazie a Dio sono contento che quando parliamo c'è ancora una bella fetta di persone sane nella fotografia fortunatamente cerchiamo di arrivare a più gente possibile del genere e ogni volta che Gianluca dice qualcosa mi dà conferma che quando l'ho scelto e gli ho chiesto insomma di essere il nostro editorialista e lui ha accettato di aver fatto la scelta più giusta che potessi fare dopo ovviamente quella di aver dato a Nicoletta l'impostazione grafica e tutta l'editoria si può suonare la chitarra senza avere la tecnica la di essere Jimi Hendrix no io non so Jimi Hendrix non so suonare la chitarra poi insomma qualcosina di mio l'ho fatta però capisco cosa vuoi dire Rocco sono d'accordo presente scatto i9 vado fiero sempre o quasi automatico diciamo che con il digitale sicuramente anche oggi è più semplice il discorso del cellulare è un pochettino più diverso quello che si fa col cellulare si può fare con le macchine fotografiche ma ripeto è l'idea che abbiamo dato che è quella giusta cioè dobbiamo preoccuparci prima di quello che vogliamo dire io sto rubando un pochettino di tempo a te Paolo perché sto leggendo tutti perché a tutti quanti sai che voglio dare la giusta importanza se spendiamo 3.000 euro l'esposimetro funziona un quarto d'ora a Paolo ok diceva Emanuele un quarto d'ora di applausi a te se spendiamo 3.000 euro l'esposimetro funziona è giustissimo ma funziona anche l'esposimetro di una macchina fotografica che costa 300 euro così come anche l'esposimetro dei cellulari che costano molto meno è un concetto ovviamente che abbiamo già abbondantemente detto e che funziona benissimo Nicoletta il 9900 i miei scatti di strada sono fatti di nascosto di corsa in una frazione di secondo e un attimo che riesce a modificare tutti i parametri in un secondo e un mago ma ovviamente non ci può fare in pratica non ha possibile questa cosa l'ho detta in una prima di un'intervista e poi ci ho fatto un video ad hoc c'è stato anche un momento in cui mi sono acceso in una discussione parlando proprio di questo uno street photographer dice io scatto in manuale e lì mi è partito un po' qua il crimine perché c'è stata una foto che mi ha fatto cambiare idea c'è stata una foto in particolare una foto che ho perso in particolare a San Pietro che stavo sotto gli archi al buio e c'avevo il quindi il diapramma completamente aperto i tempi abbastanza alti e le ISO diciamo che stavo sui 800 1000 ISO mi sono girato e dall'altra parte fuori dagli archi c'era una sora che correva quindi con tutto il velo così io mi sono girato ho fatto una foto distinto e la foto è venuta bruciata e non l'ho mai potuta usare da quel giorno ho chiuso allora io anche lì c'è da dire il manuale va imparato cioè la 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 come scattare la fotografia va imparata cioè prima o poi bisogna arrivarci perché è fondamentale per capire anche poi come funzionano gli automatismi perché se no rimaniamo fotografi in erba io dico che va imparato e e il manuale è importante utilizzarlo perché ripeto se vuoi fare il landscape vuoi fare la fotografia di ritratto eccetera sapere utilizzare il manuale ti dà quel qualcosa in più cioè non si può non conoscere ecco perché dico la tecnica va conosciuta nel caso di street photography reportage ma anche nella fotografia sportiva c'è tutta quanta quella fotografia adesso per non fare anche lì parlare sempre solo di nicchie nella fotografia veloce quella dove bisogna veramente nella vifauna l'automatico c'è il manuale il completamente manuale è impossibile immaginatevi chi fa vifauna che passa le giornate indipendentemente dal clima se piove se è nevica se fa ghiaccio passa lì impantanati nascosti mimetizzati con obiettivi che pesano 5 kg 600 e passa che si mettono lì in manuale gli passa l'uccello e hanno sbagliato gli iso cioè questi questi prendono porto d'armi si sparano in testa e dice cazzo è quello immaginate che il fotografo a bordo a bordo campo che manca che ne so il gol di mano cioè è una follia ecco è questo quindi mi consigliano in privato perché poi c'è anche quello di far vedere giustamente le tue fotografie e ti chiedo scusa perché ma in realtà penso di avertiato la cosa più bella che io volevo dare a te e a tutti quanti i prossimi che verranno su questo canale la possibilità di conoscere Paolo e prima di far vedere le tue fotografie perché mi dicono che tardi hanno ragione io la domanda te la faccio va beh in maniera in maniera molto prima di leggerla perderei troppo tempo a cercarla ti sei esposto un paio di giorni fa dicendo qualcosa di te molto intima assolutamente personale che io probabilmente al posto tuo non avrei fatto però conoscendoti prima dai tuoi scatti adesso stasera di persona sono assolutamente convinto potrei giurare che aver rivelato quella grande difficoltà che hai è stato anche quello un gran sacrificio è una grande e ti è servito una grande forza d'animo e quanto questo dolore che provi c'è in ogni tua fotografia e quanto ogni tua fotografia nasce da là allora diciamo che tutto parte da là perché io questo questo tipo di fotografia prima l'ho affrontata in maniera marginale facevo un altro tipo di street facevo una street molto più allegra anche a colori molti ritratti di strada ero sempre a caccia della composizione comunque sempre era un altro tipo di street dopo che che mi sono ammolato ho conosciuto anche il lato scuro non solo mio ma anche quello anche il lato scuro delle persone che mi circondavano di cui magari in quel momento avevo bisogno e che non c'erano e questo qua mi ha completamente staccato dalla società quando sono tornato a fotografare non avevo più quello stimolo di avere l'intimità col soggetto che invece prima avevo prima fotografavo con un 18 millimetri a un metro dalla persona mezzo metro a volte proprio in faccia sentivo l'esigenza di trovare questo stacco non ho non avevo perso il piacere di avere il contatto con la persona amo la fotografia da morire io morirei per fare una fotografia ma il fatto è che io questa empatia non ce l'ho più con le persone ce l'ho con la luce sono affascinato dalla luce la persona ormai per me è diventata un tramite col quale comporre la mia foto che mi serve per esprimere quello che è il mio sentimento il mio malumore quindi magari fotografo le persone da lontano perché sento distacco cerco di non far dovere le persone perché oggettivamente ho un distacco con le persone e qui lì per lì non ci ho fatto caso ci ho fatto caso quando ho cominciato a rivedere gli scatti di quando sono tornato a fotografare ho scoperto che mi sono interrogato sul perché e poi piano piano ragionando credo che il motivo sia questo ma nasce proprio dall'interno il mio distacco dal soggetto cioè fotografare le persone da lontano in lontananza così al buio nascosto mentre prima ero molto aggressivo io ho fatto anche street con flash e quindi prima ero molto aggressivo mi avvicinavo alle persone tante volte mi capitava anche di prendere confidenza con la gente che poi fotografavo è una cosa questa che non succede più io sento il bisogno di staccarmi dalle persone perché ho l'esigenza di stare da solo ho l'esigenza di probabilmente è una cosa interiore che andrebbe vista da uno psicologo probabilmente forse la paura anche di essere feriti come sono stato ferito in passato quando quando me sono malato e questo si rispecchia nelle foto ma mi è venuto istintivo non è che ci ho costruito qualcosa sopra è nato così e e sono contento così a dire la verità non sento più quell'esigenza lì e quindi ho studiato questo quest'altro sistema di fotografia che è molto è più difficile è molto più difficile fotografare così a livello tecnico sicuramente è più difficile e non perché prima io sono fortunato abito a Roma se io vado sotto al Colosseo in qualsiasi giorno dell'anno 365 giorni l'anno ci sono un milione di persone trovi sempre la persona da fotografare invece questo tipo di fotografia qua per me è più difficile perché non basta solo le luci ma anche la persona lavorando in silhouette la persona comunque che passa deve essere interessante anche in silhouette quindi io l'altro giorno sono stato 50 minuti 50 minuti sotto la fermata della metro di Gardenie a Centocelle aspettando che passasse qualcuno di interessante ci hanno messo 50 minuti poi è passato questo signore che peraltro dopo vedendone la foto anche quello mi rappresentava molto perché c'aveva il cappello tutto scuro in volto con le mani in tasca un po' ingobbito che scendeva la scala immobile e quindi è nato questo stile di fotografia è una tecnica molto particolare è anche molto molto interessante quella di quella della della pesca proprio viene chiamata così tecnicamente quella di scegliere prefigurarti già la texture e la composizione della fotografia e poi lì attendere che accada quella cosa tra le fotografie iconiche di Bresson c'è anche questo una tecnica particolare molto molto bella molto interessante due settimane fa sono stato a una zona nuova dell'Eur la zona più moderna dell'Eur sono stato dalle 6 di mattina fino alle 11 senza fotografare a studiare la luce ho studiato la luce ho segnato gli orari ho visto i passaggi della luce perché era praticamente deserta era ancora agosto 15 giorni fa e non c'era nessuno io sono stato lì 4 ore è passata solo una signora col cane basta quindi ho avuto 4 ore per studiare la luce e tornarci poi la settimana dopo a fotografare quindi è anche una cosa dispendiosa però per me è molto meno faticoso per il problema che voglio perché io non vado più a caccia ma aspetto cioè sono diventato diciamo uno sciagallo prima prima ero un predatore e adesso si chiama proprio così c'è questa bella differenza tra la caccia e la pesca quindi allora io non avevo dubbi per quanto ce l'abbia messa tutta ma insomma siamo andati lunghi e come ovviamente mi piace parlare sempre delle fotografie dei vostre ma stasera rischieremmo di 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 vederle con poco interesse ti fanno ovviamente un po' io riassumo i complimenti anche Emanuele e Samuele ho lasciato infatti sotto i messaggi ma anche eh Luca Albano i suoi messaggi sotto i messaggi sovrimpressi per dargli insomma il giusto eco anche a loro e farti capire che in realtà tutta quanta la community tutti quelli che ti seguono capiscono perfettamente quello che dici e in tanti ci rivediamo in questa comunque in questo conflitto che abbiamo interiormente dicevo non voglio dare poca importanza alle tue fotografie e guardarle in cinque minuti farci una carrerata così sarebbe veramente di cattivo gusto a meno che tu non abbia una fotografia che era una delle domande che ti volevo fare io che per te ha segnato o è tuttora qualcosa di particolare io rimanderei tutti quanti al tuo video la prossima settimana perché come tu sai e come sanno in tanti noi ogni settimana facciamo uscire un video con gli scatti più belli costruendo una sorta di ecco di progetto di storytelling con gli scatti dei singoli fotografi ed è un piccolo omaggio insomma da parte nostra a tutti voi e il tuo video è in programmazione proprio la prossima settimana o rimandiamo a quello ed eventualmente ci facciamo insieme un'uscita fotografica io e te e poi parleremo di nuovo di queste belle fotografie tue dandogli il giusto peso e il tempo giusto perché la gente possa utilizzarle come ispirazione perché mi dispiacerebbe e quindi ok chiudo facendoti però una domanda e saluto tutti e poi ti chiedo a te io saluto tutti per essere stati partecipi per le domande per essere tutti carini come sempre due cose dobbiamo dire prima di arrivare alle conclusioni la prima iscrivervi al canale accendete la campanella seguiteci la seconda è quella di seguire F4 su Instagram e poi lo dico io poi lo dirà anche Paolo se vuole la terza è quella di vedere su Amazon cercare F4.0 e lì avrete questa bella cosa di cui sono assolutamente orgogliosa eccola lì che è la fanzine dove ci sono le migliori fotografie del mese stampate e degli articoli molto molto interessanti curati l'editoriale da Gianluca di The Street Rover De Dominici e proprio voi di F4 voi F Nauti che vi potete proporre sempre con i vostri articoli e qualche stronzatella insomma chiamiamola così la scrivo anche io quindi queste sono le mie indicazioni diciamo così adesso vi dirà Paolo qualcosa che vuole dire al volo poi faccio questa domanda e chiudiamo con i saluti allora che gli diciamo a questi ragazzi che devono seguire F4 questo sia su Instagram che su YouTube e soprattutto di prendere questa perché non è adesso perché ci sei tu perché se fosse stata una merda ti avrei detto che è una merda io non ma così deve essere voglio dire a parte le foto belle che vengono selezionate ci sono degli articoli scritti in maniera fantastica che ti fanno appassionare ancora di più alla fotografia a me io ce l'ho tutte e due quando ho preso questa io Tulio ancora non lo conoscevo quindi non è è stata è stata una grande scoperta la fanzina la dovete prendere perché è veramente bella fatta bene e grazie salutiamo tutti chiamo una buonanotte a tutti Giulio no aspetta prima dobbiamo chiudere racconto un aneddoto al volo lo so poi quando devo chiudere mi dispiace sempre dire ciao però diciamo la sta cosa che te quando proprio quando tu mi hai conosciuto insomma hai preso il numero di luglio della fanzina mi hai scritto un messaggio che io non lo dimenticherò mai non ci conosciamo e difficilmente ci conosceremo poi in realtà ti ho chiesto insomma di presentarci di conoscerci così e hai accettato subito questa cosa mi ha fatto veramente molto felice perché mi avevi detto non ci conosceremo mai perché non voglio conoscere persone hai detto poco anzi hai detto poco anzi sto a disagio a conoscere persone non ne voglio conoscere persone io sto per conto mio però te lo dico che ti voglio bene ecco questa cosa è un messaggio che io credimi mi sono salvato perché di una di una dolcezza infinita che mi ha fatto capire che veramente i social per quanto io li odi con tutto me stesso se continuiamo a utilizzarli in questo modo come diceva giustamente prima anche Samuele come ha detto più volte Emanuele se vuoi ti dico il perché di quel messaggio vai perché sei una persona che sta lottando per dare voce a tante brave persone che la voce non ce l'hanno e sta cosa io la trovo la trovo di un animo è straordinaria e d'ammiro veramente tanto per tutto quello che fanno io sinceramente non so dove trovate la forza perché è un impegno veramente grande quello che avete però date veramente e lo fate non per voi e questa è la cosa che è nata e se percepisce che non lo fate per voi non lo fate lo fate proprio per loro e questa è una cosa che traspare ma proprio subito immediata ed è bellissima allora ti faccio una confidenza io mi sono salvato quel messaggio e l'ho girato ai 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 miei amici che per me ecco la mia famiglia di F4 perché a me quel messaggio che mi hai mandato mi ha ripagato di notti insonni di incazzature di spese folli sostenute per per F4 e volevo dare la stessa forza con quel dando ai miei ragazzi con quel messaggio che tu hai dato a me quindi ti ripeto quel messaggio io me lo porto veramente nel cuore come una delle ricompense più grandi che abbia mai avuto nella mia vita e che mai potrò avere nella mia vita perché ti sei spiegato prima hai detto il perché hai spiegato il perché e io quando mi hai scritto quel messaggio non sapevo cosa ci fosse il tuo non ti voglio conoscere quindi ancora oggi ti dico doppiamente grazie e chiudo così ci faccio una risata perché se no io poi mi faccio venire in bagone non mi va perché io non sono una persona triste anche se sembro lo sono dentro è un altro un altro discorso e la fotografia che tu vuoi scattare qual è perché io lo so guardando le fotografie conoscendoti eccetera io lo so che tu in testa una foto ce l'hai che ancora non hai fatto ce l'ho ce l'ho è buono è una mia malattia che io sto cercando di seguire da anni e non riesco a trovare né il posto né la luce e né la persona adatta ancora e la sto inseguendo come un'ossessione è un'ossessione non riesco a farla e credo che non riuscirò mai a farla perché è una scena veramente difficile da trovare io non so se te hai mai visto te la racconto perché tanto è una cosa che non farò mai la porterò la porterò questa è anche una cosa bella perché mi costringerà a vita a cercarla quindi continuerò a uscire a fotografare hai mai visto Piggy Blinder? no è una serie tv ambientata negli anni venti come il terra degli anni venti e praticamente c'è questa scena te la devo mandare inquadrata dall'alto di questo prete che è praticamente travolto da una luce si vedono per terra la luce che investe il prete le righe che formano i vetri delle chiese per terra e lui che ci passa in mezzo con questa tundua che si alta è un'immagine incredibile peraltro poi Piggy Blinder al di là della fotografia proprio a livello fotografico è qualcosa di incredibile se non l'ha mai di consiglio di vederla già solo per la la storia è bellissima ma anche per la fotografia allora facciamo così non c'è niente di meglio penso di Piggy Blind e questa è la fotografia che devo fare che non riuscirò mai però pazienza non è detto perché adesso ci salutiamo salutiamo tutti quanti grazie ancora scusate che siamo andati lunghissimi lo sappiamo funzionerà sempre così però ti facciamo tutti quanti una promessa staremo tutti quanti attenti a questa scena che ci hai raccontato perché a me tra l'altro mi hai ingrippato assai quindi non soltanto me la voglio studiare andremo alla ricerca di questa scena e la faremo e la faremo promessa da parte di F4 ciao a tutti i ragazzi ciao ragazzi grazie grazie ciao 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 Grazie.